La ML AJ è dotata di una torretta multiuso con 44 stazioni che comprende un'unità di filettatura a quattro stazioni. Il sistema consente di realizzare le filettature da M2.5 a M8 ed elimina la necessità di un'unità di filettatura separata. È in grado di eseguire il taglio, la formatura e la filettatura.